e bentornati gente tubo qui è Zeruda e continuiamo il let's play dedicato a pp64 e tristashat in termo il livello 4 neostar diciamo che neostar non è un pianeta che mi piace molto ma per carità non dico che l'odio però non è uno dei miei preferiti di così parlare livello d'annazione già livello parte nella giungla dai diciamo che già in questo mondo inizieranno ad essere veramente ben nascosti i cristalli e sarà davvero un'impresa a trovarli fortunatamente la fortuna che qua non ci vabbè adesso morirò come uno studio fortuna qua non ci vogliono abilità particolari per poter prendere i cristalli però nel prossimo c'è capisco che morirò capisco che morirò come uno studio fortuna però nella prossima servirà un'abilità specifica e vi giuro io non me la non so se ci sarà perché me la ricordo bene serve vabbè ciò so già che morirò buon dio server roccia più bomba perché oddio devo prendere qui sto dicendo server roccia più bomba non so nel prossimo livello ci sta ma credo sicuramente non mi ricordavo che c'è un cristallo ok la qui dentro ci sono delle speech vabbè meglio ricominciare però da capo sì da capo perfetto stavolta non mi faccio fregare vabbè devo dire che comunque però il boss a l'ultimo livello e il boss di questo mondo sono tra i miei preferiti anzi devo dire sinceramente che il livello l'ultimo livello è quello mio preferito ma non solo di tutti più di 64 beh ma volete canale s... vabbè ecco madonna mia una settimana che ho gioco e già inizia a fare le stronzate beh dobbiamo evitare i game over andiamo assolutamente evitare il game over assoluto questa volta non mi faccio fregare questa volta mai detto indigere non mi prenderai mai aha stavolta va bene chissà allora abbiamo preso quindi non ce l'ho conto ok ok ah ci hai provato allora qua sotto beh non lo ricordavo c'era un cristallo ok non ci trovare no questi ferro dati in secoli così chiamare sono nemici veramente rompiscato potete vedere scendono in diagonale quando si scontra no quando si scontrano con un muro iniziano cambiamo direzione ma ovviamente sempre a scendere ok manca l'ultimo cristallo si non c'è possibile non è una buona abilità da tenere qua quella della roccia però quella che mi serve per il prossimo livello quindi meglio che la prendo perchè non mi ricordo se nel prossimo livello c'è la roccia ok è una parte più rompiscata del livello dovremmo averla superata ok va diventato va diventato tartan oh oh la fai me li porti indietro ok ok lo prende alle stelle no piano non scherzi devo prendere per forza le stelle perchè Sono un po' corto di litro, un po' corto di unione in su. Ok. 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 Ah, il cristallo non lo vado benissimo, si trova qui il cristallo. Ok. Ok. Nooo. Dannazione a voi che ti tocca. Ti escondete. Oh. Ah, eccoli. Ok. 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 Ecco, questo vi ha traformicato, ma eccolo là sopra qui. Ok. Ok. Oh, invincibilità. Vai. Pronti per la musica epica? Via. Ok. Ok. Benissimo. Ok. Prendiamo la carta. Ok. Ok. di non averlo. Benissimo. Ok. Spero che questo mondo non duri come acqua stata perché altrimenti... Attenzione qua c'è un trucco. C'è un trucco. Qua c'è un cristallo. Ok. Oddio, credo che ho già sbagliato. Dai, dimmi che già ho sbagliato. Eh, appunto, già ho sbagliato. Vabbè, dovrò rientrare per prenderlo. Oh. No, mi piace già un mondo in vita. Allora, anche qua c'è subito un cristallo, quindi stare a pensare... Il mondo. Che... No dai, la bomba mi serve, perché non la posso prenderlo. Eh. Sta a pensare... Troppo concentrato qua. Pensare a prenderlo per prenderli cristallo. Dimmi, 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 lo ho fatto ben sì. O beh, almeno questo... Ok. Oddio. Non mi è piaciuto qui la regalità miniera. Credo che si è finita. Dai. Eh, bene si è finita, 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 meno male. Ok, andiamo. Non sta a tempo per la bomba. Ma scendo se sto maledetto. Oh, almeno una vita, eh. Stavolta non sembra possibile. Dio. Tu sei troppo vicino al terreno, verrà. Sve... Paolo, vale. Un'azione. Oddio, una vita... No, no. La vita upì la devo prenderla. La vita upì. Una vita in più, non una vita upì. No. Non so che fortuna però non mi è uscita, non mi è ucciso perché era questo. Devo perdere la roccia. non sta bene allora c'è adesso la fine si cosi a farti cadere così non fanno altro guarda guarda ecco mi pareva no 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 dai kibbi dai kibbi ci puoi fare potremmo ci può nazionale la situazione critica mannazione non devo per una roccia eccolo ho persa che stupido speriamo solo che ci sta di nuovo la roccia altrimenti sono finito non me lo ricordo spero ovviamente che ci sia maledetti non date nemmeno abilità non mi danno in un kibbi più avanti ma è poi diventano anche kibbi ma questo è il seguimento non mi ero accorto lasciamo 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 ma no 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 ecco vedete qua serve brucia più bomba però se non c'è la bomba questo non è un vero proprio mini boss, così vedo tutto da queste cose oddio con tanto di me oddio, già sto odiando sto livello vabbè, non voglio rischiare per una vita ok bene, ok, sto chiedendo il livello però la dobbia recuperare ben due, eh, sto sbagliato, vabbè, dovrebbe avere una sella bene, allora, non ho la bomba e non so da andare, dovremmo andarla recupera in qualche livello allora, torniamo su un pop star perché sembra che tu non mi sa, questo è il livello pratica tutte le abilità il gioco per subito allora ok, vediamo te anzi, aspetta, se non ricordo male, qua ci dovrebbe essere KB, eh, KB aspetta roccia più bomba, che cos'è, eh, eh, un pacchetto di miramite che non esco da comando però se non, se non ricordo male, fa danno a tutti i nemici sullo schermo, compreso KB sarò lanciato da un bel po' in alto, credo che dovrebbe scoppiare automaticamente ah, guardate, se fa danno anche a KB, come ho detto l'unico modo che avete per proteggervi è premere il tasto in giù, così KB si ripara con uno nel mezzo ok cioè, meno male che c'è questo splendido livello torniamo qua dobbiamo andare a fare ben due cristalli ora, questa volta non mi faccio fregare ah, bene, l'ho preso anche subito ok devo stare molto attento perché non posso rischiare di perdere di perdere l'abilità di nuovo devo stare molto attento ok non ricordo male, gli ultimi livelli non sono neanche così rompissima ah, ok, se non risolvi dei costi no, dovevo prenderla da un'abilità maledizione ok beh, ti parevo che sono di nuovo avviso per una persona per un'abilità non dovrebbe essere un'uomo una buona abilità non dovrebbe essere un problema veramente del caso ho bisogno di un cibo cibo per vedere il cibo oh io tengo questi cosi oh bene eh, no, non è che di più non attenzione ok, qua sopra c'era il vostro lì ah no, dove? oh, dove c'è? che fate? fate pure le finche adesso eh, va a peggio ho sprecato per un po' attendermi quanto odio questo animale oddio, facciamo passaggi tra me e il muro ok beh, ti parevo colpisce il mio amico e esplode all'istano no, vabbè faccio a favore oh, vuoi scegliere il stupido prox? no, basta, non posso più rischiare ci saremmo il mio botone monitor io ecco già morirò di nuovo e perderò la possibilità vedete ecco, devo superare questo punto con uno dei viti ce la posso fare, ce la posso fare ce la posso fare, ho sconfitto ho sconfitto dei boss con uno di vita se non fare questa cosa semplice che per quanto semplice non lo è no, no, no dannazioni, mi sono porto le scatole ecco andiamo su pop star, però dannazioni, ho una grossa perdita di tempo stavolta però non devo su vabbè, ho ucciso pure quello che mi serviva ok speriamo che questa sia l'ultima volta perchè di far tornare un video a 40 minuti di nuovo non ne ho un po' che non mi serve neanche cibo qui noi facciamo molta attenzione stavolta stavolta non voglio ripetere il livello cuore ancora vabbè, intanto abbiamo già preso il cristallo quindi non è un problema eh ecco già anzioni non mi frega il primo non mi frega questo evitiamo tutti i nemici che rotture vabbè già ho perso di nuovo botto di ridere un colpo stavolta devo riprendere quel pezzo di carne e non perderle non è 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 che rottura non è non è non è ok muori però non mi uccide ok già posso fare non è 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 previsione 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 questa parte la fari lasciata corri 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 si stavolta è una volta buona meno male e mi chiamo pure quattro dici sì forse della croce del cibo quindi non mi preoccupo brutto solo il fatto che non potete far esplodere la vita non so se immortale o qualcosa di genere eh no vabbè no questo pensiero prendiamo l'ultimo cristallo di questo livello ok ok oh no qua ricordo che c'è un allora inizia in via questa vita maledetta non la voglio più vedere allora se non ricordo male qua ok tu via pure non voglio abilità a questo livello non voglio farlo senza abilità però no no aspetta questa mi serve ricordo che mi serve gli action non mi ricordo dove però cibo dove poi però c'è un cristallo veramente difficile da prendere la vostra fortuna c'è provato a quello c'è provato pure tu mhm prendo la vostra fortuna poi capirete anche il perchè cosa cosa oh my god vabbè vabbè ci sono ingredienti per farlo ingredienti ci sono su cookie mart però mi serve il viaggio ricordo non mi ricordo dove però lì serviva poco più a culo se non ricordo male aspetta però non è neanche così lontano quindi potrei pure tornare indietro no ok dobbiamo fare alla legolas ci entro da qui no posso un pochino niente andiamo forse mi devi colpire eh ma vedete bene bene allora vediamo un po' andiamo poi cristallo e ora torno indietro perché mi serve a tutti i costi il viaggio però con questa è vero che sia l'unica abilità che è essermi con tutti i suoi soldi dai 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 tiaccio ok ecco qua si mi serve a tutti i tossi te lo ricordo bellissimo credo che serve nell'ultimo livello ok oddio ho già sta per durare 30 minuti tannazioni vabbè whatever un altro un altro mondo da 40 minuti Questa non ricordo male, il boss non è neanche così tanto difficile, anche se non lo metterò. Dai, scopiro secondo livello. Oh, è un armario di attivo. oh oh oh, non ci provare nemmeno a cadere, congelare il fuoco, logic over 9000, ok, oh, non ci siano fatti i ragni a vicenda, vabbè, meglio per lui, meglio per me, ok, credo che sia qua la cosa che, vediamo, oh, un ombrello, ok, eviti, allora, cos'è quello di Clip? Adelaine ha disegnato un ombrello, quindi noi dovremmo riprodurre un ombrello qui, quindi spero di non fare stupidaggine, ecco, ho fatto la stupidaggine, quindi dovremmo ripare tutti, aspetta, se torno indietro ho niente, ok, posso provare ancora, meno male, no, Firli, dai, dai che non puoi volare più all'infinito, non puoi volare all'infinito, sono seguito, eh, va bene, ma allora, Killi, me lo fai apposta, meno male che posso continuare finché voglio, beh, che voglio, no, il video pur sempre che va avanti, ok, spero di, spero che ne vada bene come lo faccio, bene, ok, speriamo, sì, non sì, non sono uno scultore, perché devo fare queste cose? Sитель as Scela Soprima Soprima Dan�or Soprima Soprima un bel per chi un albero oh si è vero male a livello per questa cosa per un male che si può tornare in ritore con un po' si muove vabbè l'ultimo cristallo non mi ricordo dov'è qui no 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 lì proprio no lì per niente ah è vero quando iniziano a parire le rocce che cadono che brazzo di idiota ma dai non ci credo stavano finire da piangere potrino ma non voglio rifare il livello per poche sfidati ok prendo un'abilità giusto cosa mi può essere utile ok non è qui non mi faccio lo stesso errore di qui e dov'è stavo dalla mia parte ok ok ecco credo che sia si è qua ok eccolo lì ok però dovremmo rientrare in questo lì livello ma what the fuck non ci credo maledetta abilità del cavolo quasi sono rotto di ricominciare da qui vabbè tanto abbiamo preso per questa quindi nessun problema non voglio più nessuna abilità voglio solo finire questo dannato livello 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 dai rush copriamo ok ok non voglio più non voglio dire che mi sembra il giusto voglio non voglio dire che mi sembra il giusto voglio dire che mi sembra il giusto lì io ho detto in giapponese oh allora prendiamo la carta ma dai non ci credo oh il mio livello c'è poi il mio livello va bene no perché sono entrato qui oh no 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 vuole questo livello non voglio più vedere in vita mia pensiamo un attimo devo prendere il ghiaccio vieni qui ok no continuo e no ok ok andiamo l'ultimo livello ok attenzione che poi ci stanno rotto qua siamo in piena eruzione quindi cadono rocce oh ok 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 attenzione che poi ci stanno rotto eh no il ghiaccio il ghiaccio eh no il ghiaccio il ghiaccio ora attenzione non posso il modo migliore per proseguire sarebbe quello di assorbire una roccia usata per l'infine del smartphone ok ok devo ottenermi questa abilità credo per un bel po' ok oddio quelle cose sono vedi oh cibo che fuori sparisce oddio che furco cibo che fortuna ci devo fare carbos ok oh no mi prende no non mi prende no 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 ecco questa è una parte in cui io posso rischiare veramente tanto no 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 devo stare molto attento allora in una di queste colonne come c'è un cristallo per il mondo brutto di questi livelli che ecco ecco per gioia brutti di questi livelli è proprio perché ora per tenere devi tenerti in abilità per un bel po' di tempo quindi di essere molto bravo a giocare ok anche io non lo sia non è vero sono una bici ok non è vero sono una bici dai quella non lo prendi dai dai ok 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 stai molto molto attento se almeno tutta la vita sei più sicuro ok 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 ieri io a il parco avuto e lì è la fine e lì è la fine ok che era in una parte di un'idea questo si è lo che a volte che siamo vivi io non è ancora arrivato stare attenti fatevo qua ci vuole il doppio viaggio oh no ma nemmeno vita so nemmeno se arriverò a farlo il bosco tutta la vita è whatever non è così difficile ok non vedo per terra ci provare nel mese ok dai che ci siamo arrivati quasi qua il video è andato oltre 40 minuti perfetto oh ok ok dove stanno corriendo ah beh tanto anche se dura 40 minuti che se ne importa questo livello questo livello questo gioco è bellissimo peccato che dura così poco ok 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 questo potrebbe sembrarvi potrebbe trarvi in grana giocata vedete sembra che serva fuoco più bombe invece no serve l'elemento contrario al fuoco che non è acqua perché qua l'acqua l'hanno per me sono in ghiaccio quindi dando il ghiaccio rompiamo quella roccia lavori ok oh come on prendiamo il cristallo ok ma anzi non me la tengo può sempre essere utile per questo ok 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 ricordi, ricordi, ricordi. Eh, vabbè, non mi importa, non mi importa se morirò a boss questa volta, eh, non so che dovrò morirò prima, ricordi. Sì, no, dai, corri, 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 corri. Oh, ben mio, l'ho ricaricato tutta la vita, però. Beh, domani che quella lava è molto lenta, meno male, avvio. Vai. Ok. Ok. Ok, dai, corri, Kirby, corri, Kirby. Dai, oh. E ora dobbiamo salire in veserifica, che qua è molto più lenta di prima, quindi non sono problemi. Allora, credo che qua è l'ultimo fissardo. Ok, eccolo niente. Vai che ormai è così finito il livello e ha finito tutto questo mondo. Oh, che fortuna perché l'ho preso da troppo. Oh, che fortuna perché l'ho preso da troppo. E' veloce il boss. Eh, già partiamo bene. E questo boss è abbastanza facile, anche lui ha due fasi. Sì, abbastanza semplicemente, dovete solamente stare... Oh! Dovete solo prevedere i suoi attacchi guardandolo sullo spawn. Noi, ah, ah, ah! Dovete solo. Oh, noi! Oh, noi! allora che opportuno, quindi lo è prima fase completata a scappare di più questa fase spero di non fare cavolate no, cavolo, questa invita così non mi sarebbe così credo che, no, questa volta è che sono sicuro che morirò oh, però mai, questa volta è evitato via, quando così mi metterò un piscatole ecco, stavolta sono morti pensavo che stavagia quella attacca, invece no beh dai, almeno quella tutta la vita stavolta non facciamo cavolate qui oddio, non l'ho notato Prendiamo un altro golfo e finiamo la prima fase. Ok, sono già pronto per schierarti con l'attacco di fuori. Ah, cavolo, non l'ho visto che non stava caricando. Ok. Ok. Tornare qua. Ok. 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 Vi saluto velocemente perché la parte è durata anche troppo qui da Zeruda. ci vediamo alla prossima. Ok. Ok.